Presidente, questa manovra, i due terzi della manovra vanno a favore del caro energia per cercare di sostenere le imprese, però dureranno fino al prossimo aprile. Allora volevo chiedere se il governo ha un piano, se pensa a uno scostamento di bilancio, se pensa anche a chiedere ovviamente un aiuto all'Europa. E a proposito di questo, se la crisi diplomatica con la Francia, visto che ha dovuto intervenire anche il Presidente della Repubblica, le ha insegnato magari ad avere un approccio meno propagandistico nei confronti anche dei paesi e dei partner dell'Italia. E a partire anche dai suoi alleati che nelle ore più difficili hanno detto che l'aria era finita e che la musica era cambiata. E mi rivolgo a Salvini, grazie. Guardi, è una vita che voi volete insegnarmi qualcosa. No, sì, sì, però c'è modo e modo di fare le domande. Mi ha insegnato? No, non mi ha insegnato niente, perché credo di aver fatto il mio lavoro, come sempre, difendendo gli interessi di questa nazione. E non mi pare, differentemente da quello che è stato raccontato per molto tempo, da chi mi insegnava come doveva funzionare il mondo, che stia crollando qualcosa qui intorno. Non mi pare che sia accaduto quello che pure era stato raccontato sull'arrivo di un governo di sovranisti isolato a livello internazionale, lo spread salirà, succederà di tutto. No, mi pare che ci sia un approccio molto serio, ma sì rispettoso dell'interesse nazionale italiano. Quindi non so che cosa esattamente mi si debba insegnare. Se è insegnarmi a, voglio dire, non difendere l'interesse italiano, questo non lo imparerò mai. Mi deve scusare, quello che noi abbiamo rivendicato, ne abbiamo parlato nella scorsa conferenza stampa, quando c'è stato il problema della ocean biking, è che l'Italia non può essere l'unico porto di sbarco in Europa. O voi ritenete che sia giusto che l'Italia sia l'unico porto di sbarco in Europa? Perché questo non è più una materia che riguarda semplicemente la gestione dei flussi migratori, no? È proprio un problema che riguarda il ruolo dell'Italia all'interno della dimensione europea, no? Se ci sono degli accordi su questo, bene, ma io non ne sono a conoscenza. Lei ne è a conoscenza, non mi pare che ci fossero accordi che stabilivano che... Sì, ma l'approccio diplomatico non c'è stato niente di sbagliato sul piano diplomatico, mi perdoni? Nel senso, mi pare che si possa dire anche su questo che i toni del governo italiano sono stati dei toni molto rispettosi di tutti, anzi, anzi, diciamo, rispetto ad alcune cose che sono state dette da parte di altri verso l'Italia, mi pare che il tono del governo italiano sia stato un tono perfettamente istituzionale. Grazie. Grazie.